ciao amici di twitch, sembra che no, facciamo così va, hai visto che ho fatto una cosa facciamo così, ciao amici di twitch ecco qua così facciamo che ho un po di cappellame, un po di cappellame, guarda che bel cappellame, ciao amici di twitch, siamo stream elements, ciao stream elements, grandissimo santana, allora condividiamo la live, ciao giovani, grandissimo come stai, bella lì, bella lì Gio, questa jaguar la voglio, guarda che bella, andiamo a comprare un po di auto andiamo a fare qualcosa di fighissimo stasera, su, 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 gran turismo Giovanni, come stai, come stai amico mio, allora, bene, oggi mi scrivere, oggi mi scrivere, chi ti ha scritto oggi? chi ti ha scritto amico mio? sto condividendo la live, eh, one minute, one minute, poi partiamo subito a fare qualcosa, ma che bella sta su Bago, bella, ciao amici di twitch e benvenuti ragazzi e ragazze, adesso sto condividendozzo la live e poi partiamo subito, ieri non mi faceva scrivere nella chat, ah ok, e infatti vedevo che non c'eri, però ho detto boh, hai visto che parti tozzo, dai, assurde ieri? forse domani sera ci alleniamo ancora allora, grandissimo Giovanni, quando ci alleniamo io, Morris e Michele non posso giocare con altri eh, grazie, grazie Giovanni quando invece, eh, non ci alleniamo, giochiamo insieme, eh, mi raccomando, ok? grazie, grazie, dillo a tutti i tuoi amici vi aspetto il live adesso, compriamo, ma grande Giovanni compriamo macchine hai visto che mega, che mega partita Morris, anche Michele, ma anch'io ho fatto il mio, eh mi sono salvato, li ho fatti spawnare, ho ammazzato 3-4 persone dai, è stata bella, devo anche imparare anch'io, no? e adesso, per l'allenamento, io ho il grandissimo Morris e Michele grazie, grazie Giovanni abbiamo, forse andiamo anche su Call of Duty Vanguard, eh? quindi figo ok, live condivisa ma sai che cosa? la potrei condividere anche su Instagram Instagram ok, la condividiamo anche su Instagram e poi partiamo allora Giovanni, guarda, io questa ce l'ho, eh questa ce l'ho, è bellissima, 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 bellissima allora, vediamo un attimo stasera ho proprio voglia di giocare a Gran Turismo tra l'altro è bella sì, sì, hai ragione, hai ragione è veramente bella sta macchina ok, Michele la grande Giulia, ok allora, vediamo un attimo che cosa si può fare allora, non avevo ancora acceso il volante ok, perfetto adesso ritorna il video oh, che meraviglia dopo quando arriva l'amico Sharder ha una sorpresa per me amico mio, quando poi entri vado a vedere la sorpresa che mi hai fatto, eh la vedo in live insieme a te sì, bravo, bravo, va vai, 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 tranquillo, vai, tranquillo allora, Suzuki ce l'abbiamo il Sambabus ce l'abbiamo la Cinquecentina ce l'abbiamo Fireball esaurita 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 la Golf 9.11 ah, c'è la Viperina, eh eh, eh allora, dai 113.000 vediamo un attimo sta Viper la SRT10 Coupé vanta motore V10 decisamente superiore rispetto agli altri con una maggiore cilindrate 600 cavalli ma non è tutto la DS vanta miglioramenti a tutto tondo il motore è più fluido controllo più stabile affidabilità cambio trasmissione sono reattivi dai 113 andiamo a comprarla bella lì e andiamo a provarla in pista eh bella bella mi piace mi piace la Corvette la Corvette allora circuiti mondiali la proviamo la proviamo sul Lago Maggiore la proviamo a Alsazia dai Alsazia ciao amici di Twitch grandissimi amici benvenuti benvenuti abbiamo comprato e Luca ciao mi raccomando ragazzi scrivete in live in chat così vi posso rispondere e salutare in live chat live ciao Luca guarda cosa ho comprato guarda cosa ho comprato amico mio oh devo sempre ricordarmi che non sono GR3 queste sono macchine normali oh e mori ciao Maurizio e si vola volare con oh con la Corvette che poi tra l'altro è il Dodge che in teoria sarebbe la Fiat Corvette allora stasera ci facciamo un po' di di corsa corriamo un po' vediamo se riusciamo a cavare un ragno dal buco con questa Corvette ma penso che forse è meglio se metta la visuale da fuori eccolo Giovanni grandissimo ci è arrivato anche Maurizio grandissimo Maurizio allora il papino grande Maurizio grande Maurizio allora domani spero spero di fare un'altra bella partitozza in allenamento col mitico Maurizio e mi chiede ma vediamo vediamo gli eventi vediamo gli eventi ragazzi ciao cosa ne vuoi grande ciao 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 piccoli belli belli oh cosa sbanducchia questa Corvettina la Corvettina sbanducchia un attimo dai che gli diamo un po' di gas gli diamo un po' di gas oh la sazia è sempre tosta è tosterella come fista credo che ce la facciamo arrivare primi credo sì credo proprio che ce la facciamo ciao amici di Twitch benvenuti ragazzi e ragazze caspita avete visto che balordo dai mi ha fatto girare io li faccio girare se li guardo addosso sto a dire a far tutto il bravino il bravello ma perché che loro mi vengono addosso comunque a livello motore viper ragazzi non scherza non scherza niente c'ha 600 cavallozzi a livello freni fa un po' lascia un po' desiderare a livello freni io gli farei fare un giretto alla Brembo e sicuramente non monta il Brembo può anche essere quindi tra l'altro mi sono dimenticato di mettere le marce manuali e sto andando con le marce ecco là comunque è lui che mi ha fatto girare prima quindi anche se gli do una bella ciao Luigi ciao Psico grande guarda Luigi guarda che mezzo Viper della Fiat Fiat Viper è un 600 cavallini tanto per tutti inimi come corre Marco Drums nessuno mai farà anche questa è bella e Marco Drums paura della gara non ha Marco Drums paura delle gare non ha ciao amici di Twitch benvenuti ragazzi e benvenuti ragazze mega live ozza Gran Turismo diciamo che andiamo a comprare auto adesso andiamo a comprarne una roof da 700.000 euro quindi rimanete così vedete come si spendono davvero i soldi al giovedì sera neanche il venerdì che è festa giovedì sera spendiamo un milioncello così tanto per è proprio rombante questa è rombante questa questa corvetta sportiva sportiva bante sportive rentante sportiveggiante sportiveggiante non dice già un altro youtuber non mi piace però sembra che copia però la sportiveggianza ci sta in quest'auto è mitica è mitica un po' un po' troppo un po' dai dai ciao Giovanni dai sono ancora primo nooo da dentro è impossibile ci sono delle auto che sono veramente impossibili da dentro ci sono anche quelle che ho comprato a un milione che hanno il quelle da non me le ricordo più tipo le Audi l'Audi l'Audi a diesel è una cosa incredibile davvero non si riesce a guarda qua questa curva la farò una fatta bene Aston Martin tu mi hai buttato fuori io ti butto fuori questo almeno arrivo sul podio no impara impara Aston Martin giusto ci sono delle curve ragazzi che davvero da ricordarsene è proprio una cosa vabbè 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 dai ero primo me la sono giocata un po' male grande ciao a tutti ragazzi ciao mitici benvenuti benvenuti abbiamo appena iniziato andiamo a comprare un'altra macchina pazzesca andiamo a comprare una bella uh beh vediamoci un attimo un replay dai perché comunque la Viper merita secondo me non tanto per i replay che sono arrivato terzo ma per la macchina la macchina è top ci sta vediamo un attimo da dentro eh da qua ci sta proprio anni 70 80 questa questa tipo di di strumentazione e di plasticume sì sì tutto plasticume tutto bel plasticone blocco unico sì sì è proprio anni 80 anche l'autoradio integrata di plastica tutto tutto plasticone bene ci sta ci sta è fatta bene vediamo un attimo perché mi sembra che era più il tempo che andavo col prati e l'inizio perché le Viper sono un po' terribili da tenere in strada ragazzi fanno un po' quello che vogliono loro un po' come le Lamborghini anche le Lamborghini sono toste beh diciamo che usciamo con questa macchina con gomme da concessionario e niente potenziamenti quindi non so andare un po' piano però si poteva secondo me dicere comunque molto molto bella molto bella a me piace sta Viper mi piace un botto a me piace ragazzi mi piace questa mitica Viper andiamo a spendere 777.777 euro ok che poi tra l'altro non ho ancora visto oh aspettate andiamo a aprire un bel bigliettazzo della fortunazzo dai 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 ne abbiamo due ragazzi oh un due stelle prima vai vediamo 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 ragazzi ruolo di tamburi soldi tanti soldi tanti soldi tanti tanti pochi soldi ma sei proprio un barbaro gioco 5.000 ma cosa ci faccio con 5.000 fammi capire dai dammi qualcosa dammi una macchina una stella rossa però dai voglio quella macchina lì non so che cosa è una clio dai no gli ammortizzatori per che macchina per la ktm ma tu sei fuori come un melone ma questo è pazzo questo qui è minchia solo schifezze questo roba vabbè popolare 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 ragazzi è la cappuccino guardate che mezzo che ho comprato la cappuccino tra l'altro devo anche provarla sinceramente adesso le toglieranno un sacco eccoci qui la roof raga è una casa automobilistica tedesca che usa componenti porsche per costruire auto ad alte prestazioni ciao chris grandissimo la generazione si è pronominata yellow bird era basata sulla 911 infatti assomiglia alla 911 però è un po' diversa è un modello di terza generazione ha debuttato nel 2007 telaio a motore centrale più lungo grande chuvagli grande chris stavo dicendo mitico chris che ma sto gioco ti prende sempre per il culo ti fa credere dei premi dei soldi è vero è vero grandissimo kevin ciao anche a te grandissimo kevin andiamo a prendere questa roof 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 ciao ciao amico mio roof 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 abbiamo comprato una roof da 777 giochi anche a warzone oggi no assolutamente no chris solo un gioco al giorno e e oggi è gran turismo domani in teoria dovrei giocare allenarmi con il mitico moris e michele se con questa cosa non sussiste non ci alleniamo perché ci stiamo allenando per fare i campionati mondiali io beh loro due io mi alleno con loro allora se mi devo allenare devo giocare con loro due quindi non posso venite soltanto in chat che chiacchieriamo ci divertiamo e vedete le giocate pazzesche se per caso non va in porto l'allenamento possiamo anche giocare insieme comunque è tutta una cosa che vediamo domani sera con warzone ok grande chris grande 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 allora dovevo cambiare le marce sentiamo un po' sta roof ma cosa combino questi qua è un po' diversa dalla porsche cosa dite voi non è male oh si ma è sempre posteriore è sempre un porsche comunque sarà una roof ma c'è poco c'è poco da andare tranquillo allora le porsche purtroppo anche se sono belle molto belle secondo me hanno questa particolarità che vanno un po' dove vogliono loro con la potenza quando dai gas il posteriore parte parte di tutto anche se sinceramente ho gomme da concessionario e non ho potenziamenti non mi sembra tanto male questa roof magari a fargli un po' di potenziamenti non mi sembra proprio male perché guardate che comunque la maggior parte delle volte che bisognerà fare una gara a livello difficile per capire perché poi alla fine della fiera ragazzi è sempre sul livello difficile che si vede se va bene la macchina o no ma se vai così senza potenziamenti subito a livello difficile non ce la facciamo non ce la facciamo non ce la facciamo ciao Sharder amico mio adesso andiamo a vedere quello che tu hai fatto per me grande ti aspettavo Sharder grandissimo guarda che mezzo che ho comprato Sharder una roof da 777 770.000 euro ti piace ti piace un po' si dai non è male né esteticamente forse ho frenato un po' troppo tardi effettivamente non è male esteticamente neanche le spritz amore grande Carlita amore mio ah ghiacciolo no spritz io ve lo spritz dai dai che se sta guidare con lo spritz se guida più allegri allora ragazzi quando guidate non si beve lo spritz lo sa Carla della livrea si gliel'ho detto prima amico mio eh si quello che tu hai detto che Sharder mi ha fatto anche a me cazzo si è dimenticata e dovevamo aprirla adesso no no non volevo aprirla prima grandissimo Sharder perché eh eh toglievo la sorpresa no eh eh allora gli ho detto Carlita mentre stava facendo da mangiare quindi probabilmente non ha capito niente che anche tu mi avevi fatto la mia livreina che bravo eh grande Sharder no io guido con tre birre wow allora dimmi quando vai in giro così sto a casa ah 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 grandi ragazzi ciao amici di Twitch oh scusate ragazzi quando urlo così faccio veramente odioso no non si dice neanche per scherzo quello che hai detto guarda che ti bando fuori col cane ah 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 comincio a fare cattivo beh tu non devi dire queste stupidaggini ciao saluta Carla si è qua Carla è qui di fianco che fai i cazzi suoi e perché non mi lascia passare hai portato sto spritz no allora non passerai finché non arriva lo spritz c'è stata tu hai hai fatto un un disastro con quello spritz non dovevi prenderlo ma perché è buono è buono picchialo, ahahah, ahiai, 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 ahiai caramba, ahiai caramba, non si usa la violenza nel mio canale, ok, vediamo un attimo, si, ma ti vi è ghiacciore, eh, mangiate il ghiacciore, ciao Leonardo, grande, ciao, come stai, come stai mitico, oh ragazzi se lo siete iscritti iscrivetevi al canale, andiamo a vedere Leonardo, quindi benvenuto e guarda che macchina ho comprato stasera, ragazzi, qui si parla di 777 mila euro come se fossero bruscolette, una roof, una roof ragazzi, ci sta, allora la roof è su base della Porsche 911, e 4 patatine, ciao ragazzi, mi raccomando, eh, un po' di sprizzatino a tutti voi ragazzi, cin cin, ciao Roby, grandissimo, come stai, come stai, grandi ragazzi, Leonardo, Roby, bella lì, bella lì amici miei, andiamo un po' di sprizz, così corriamo più allegri ragazzi, facciamo una bella corsetta in allegria, con 4 patatine dentro la ciotola del cane, ah 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 ah, salute Roby, dai quando si va in macchina uno sprizzo ci sta, no, non è vero, io non bevo mai, patatine, comunque è molto bella sta macchina, eh, anche a livello di tenuta, tieni una patatina, tieni, grazie Roby, è vero, le patatine si possono mangiare, quando guidate, ma lo sprizzo no, eh, perché è alcolico, e che è ghiacciola, grande Leonardo, ma che bello che è usato quello di Gigi, ah 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 ah, eh beh, le patatine si, ragazzi, il grandissimo Chardel mi ha fatto una livrea, grazie Chardel, e adesso andiamo a vederla subito, eh, tra l'altro l'ha fatta anche a Carla, eh, bravissimo Chardel, la mia Chardel spero sia la bella, mmm, Roby, un gatto con gli occhiali, Roby, guarda, eh, ce li anch'io con gli occhiali lì, ah ah ah, adesso gli rimetto al drago, ah 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 ah, Leonardo, ma quanti? raga, avevo messo il lettore di messaggi, ma ho dovuto toglierlo per la disperazione, quando dovevi andare a leggere le cose, quelli del complesso di casa, esatto, ah 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 ah, sono loro, sono loro, Roby, questa macchina è 9.11, eh, comunque la Porsche 9.11, va via di retro, guarda che bella, eh, 777.000 spesi meno, secondo me, magari con due belle gommettine, mmm, uuuh, salve, grandissimo gigiro, guarda, 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 le nuove icone bellissime le ho messe, Leonardo, ho messo la mia librea, e oggi mi ero stato, stai, si, tutti mi chiedevano se la macchina era vera, mi ha, ah ah ah, se aveva quella macchina lì vera, magari, su Baroczo da GR3, per andare a fare la spesa, minchia, eh, oh oh, è finita la pista, devo smettere di mangiare patatia, buoni, mamma mia, io trovo i BRZ che erano messi dopo la pezza, BRZ, no, non devi fare che siamo, no, no, BRZ, BRZ, oh, oh, la Subaru intendi? BRZ, hanno messo proprio le macchine BRZ, aspetta amico mio, fammi vedere, dai, no, BRZ, no, aspetta, tu intendi questa, aspetta aspetta, sì sì ho capito, è certo che l'ho comprata, ne ho comprate due, questo amico mio, guarda, te le faccio vedere, guarda, è la prima cosa che ho fatto, è la prima cosa che ho fatto, quando ho fatto la patch, ah no aspetta, devo andare a scaricare, andiamo a vedere, guardate, 13 milioni di Mercedes Benz, l'ho comprata, l'ho comprata amici, tu compri sempre tutto, Roby, le ho comprate due, una per me, una per mia moglie, così, oh, hanno messo la Jaguar, oh, hanno messo la Corvette, allora, ragazzi, andiamo a comprare questa Jaguar, prima di tutto, vediamo, allora, la D-Type, è una delle auto più importanti, della storia di Jaguar, in ambito, mani bucate, ah ah ah, è anche una delle, 50 preferite, così, con una parte della C-Type, come no, due volte ho vincito la Le Mans, è una della Le Mans, no, altri 15 milioni, povera Carla, che deve farmare, anche Leonardo, anche mio figlio Leonardo, poveri, scappo di casa, si, oh, ragazzi, ma sfarmo anch'io, non è che sono qua a fare pizza ai fichi, anch'io, quando c'è un po' di tempo, adesso, prima di fare la live, stavo farmando io, 800 mila ogni, rispregare, ok ragazzi, fate i bravi, 6 milions, si, pepe, 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 auto da corsa, non è dell'Aleman, però, vabbè, fa niente, lo compri stesso, andiamo a provare, 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 questo 6 milioncini, tu non farmi spendi, io spendo e farmo, spendo e farmo, ma spendo di più che farmo, andiamo subito a provarla, ma caspita, ma questi qui continuano a mettere macchine, continuano a mettere roba, oh, speso 10 milioni anche oggi, non c'è un giorno che non posso spendere 10 milioni, ma qui siamo fuori come un melone, allora, andiamo subito, a provarlo, al Dragon Trail, e dopo ragazzi, andiamo a prendere la livrea, esatto, esatto, grandissimo shard, la livrea, la livrea, hai ragione, hai ragione, la lovra, la lovrea, è qualcosa, di brutto, però penso che stavi scrivendo la livrea, a lovrea, non so che cos'è la lovrea, aspetta, perché, adesso andiamo subito, amico mio, oh, no, 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 abbiamo capito tutto, però pensavo che stavo una cosa tipo love, la lovrea, però lì dovevo disegnartela, dovevo fare i miei amori, quella della lov me la deve fare i miei amori, tu e amigos livrea, ciao amici di Twitch, benvenuti raga, allora, ho comprato questa macchina da 6 milioni, allora, ci sta, ci sta, anche se, insomma, gli sto dando paga alla 250 GTO, che tra l'altro ho nel garage, da 20 milioni, diciamo che queste macchinette, non è che proprio sono, il top, cioè, una volta comprate, si usano solo per collezione, tra l'altro c'è pure il volante tutto sminchiato, adesso andiamo subito a scaricare la livrea, tra l'altro che poi vi faccio vedere la BRZ, la mia è bellissima, Chiero, Roby, 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 non ha visto la mia, la mia è bellissima, adesso li facciamo vedere tutte Roby, va bene, tu la faccio vedere quando ho con te, fai la gorsetta stasera, hm, hm, è generico, sì sì, fatti Roby, grandissimo, eh ma se io devo capire se tu dici sì o no, mi fai, hm, è generico, buone, no è no, hm, eh, guarda, guarda, ah ah ah, sì sì, adesso andiamo subito subito da lei, botto l'elicottero, occhio che fa il botto l'elicottero, secondo me viene giù perché finisce la benza, mi viene sulla macchina, è nucleare quello del botto l'elicottero, eh sì, è iberto, è fighissima sta macchina, però non si potrà usare praticamente per nulla, e poi perché ha fatto così tipo disco volante, eh, 12, 12, ci sono delle macchine che si guidano bene là fuori e altre che non si guidano bene là fuori, eh, ciao amici di Twitch andiamo a scaricare adesso appena finisco questa gara da 6 milioni di euro di sta macchinetta, a scaricare la libreria che ha fatto il mitico sharder, eh, per il mitico Marco Grano, grande, grande sharder, adesso finiamo il giro, vediamo un attimo il replay perché merita 6 milioni di macchina, almeno per il mio replay, e poi andiamo subito a scaricare la BRZ, la mitica Subaru che va, che è un bijou, che lei è un bijou, tra l'altro io non riesco a capire perché mi mettono, Gran Turismo tra le macchine storiche mi mettono dentro una charger, per... che è saffi di carne, vabbè, ci sta, le hanno messe e non le usano nessuno, si, si ha ragione, oh, più che altro lo spritz qua ragazzi che le patatine, ha finito lo spritz, non ha lasciato neanche un po' per me, c'è finito la bottiglia? eh, non c'è più? ma non c'è più? c'è? sei un po' vaga quando dici sì o no stasera eh mo? eh? amore Dio! c'è, ce n'è ancora allora? si ne voglio ancora un po' dopo, così me lo mi ubriaco! però ragazzi non si beve quando si va in macchina eh? dai ci sta, ci sta! ci sta questa cosa, bella! ho riscattato richieste eroe, grande richieste eroe, ma perchè non hai messo le cose lì? mettilo! perchè l'hai tolto? madonna Rovi! oh! eh, carlo ha chiuso tutto l'ambaradan, non so perchè oh grande! dovremmo scoprire insieme! eh sì! no no no! bellissimo! grande Rovi! grandissimo! ma che cos'è? Batman! Batman amore! Batman amore! però il vostro libriista solo per te! sono gratis carlo a marco 100 euro! ah! cosa ho fatto? niente! eh ma non è possibile che cada... così eh! io guardi niente! ah cazzo si spacca tutto! manda la fattura nel canale di marco! guarda! hai dato talmente una cavolata Charles che... è spaccato il joystick e ti è anche tolto il... eh! vabbè niente non ti senti ma... lo metti di qua! lo metti di là! lo metti di là! c'è solo il cane allora! qui è qua! qui c'è il cane ragazzi eh! guardate! l'olio è qui! non c'è nessuno per ricompararlo altro che per la libera! esatto! esatto Roby! un bello 80 euro! 80 eurini! io c'è il cambio qui eh raga! comunque voi non lo vedete! eh! Olli! hai buttato giù il joystick Olli! eh! si è stirata e mi ha scassato il joystick! vabbè però se mi sentite comunque vuol dire che funziona! oh madonna! anche quando il telefono mi si inchioda così mi fa girare le scatole ok! si si! fallo cadere di nuovo! no no no! oh ma che non ti scarico la livrea! ok! allora subito! andiamo prima a prendere la mia via rezzetta! a meno della mia! si! allora dovrebbe essere questa! vediamo! no! non è senz'altro questo! ma certo! allora! andiamo a scaricare la livreina che mi hai detto di cercarla come... Subaru! Subaru! oh! Subaru 1! non scherzo! ahahah! ahahah! già hai cambiato idea! ciao amici di Twitch! andiamo a scaricare la mega livrea che ha fatto l'amico Sharder eh! grande! è bellissimo quel gatto lì comunque eh! si è bellissimo! allora! io come sempre cerco... la cerco qui eh! poi se non la troviamo... A01! grandissimo! grandissimo! vediamo se la cerchiamo perché magari... a parte di questa macchina le avranno fatte un miliardo! però di solito le trovo sempre le tue eh! oh! qui è Marco! ahahah! hai messo la O1! si si si! ma hai fatto benissimo! eh! è Sharder! allora! non si capisce quello che sta a dire! allora! grey music! vediamo un attimo! il gioco! no! secondo me! eh! non è impossibile! allora! cerca! Subaru! ma chi chiama Marco Sharder? vero! eh! allora devi seguire il filo del mio disco! Marco il padre di Oli! esatto! bravo! no! vedi che non lo capisce nessuno! evita! oh! basta! Marco! Drums! Games! Livrea! vediamolo! vediamolo! 5.000 mi fai spendere Sharder! 5.000! 5.000! me le devi dare! vediamo! vediamo un attimo! allora! bella! bella! Skyactiv! Marco Drums Games col blu! bellissima! Gamestop! ci sta! vediamo un attimo! hai messo Twitch YouTube! spero che hai messo! aspetta! massacchi! allora! dietro! questo rosino dietro! allora! Subaru performance! puma! mi piace! ma questa è mia! allora! sono le corse! bella eh! bella! davvero! twitch! eccolo lì! bella! grandissimo! marco drums course games di fianco è bellissimo! guarda anche lì marco drums games col blu! grande! è bellissima! è bellissima! è bellissima! ma non si può vedere in un altro modo un po' meglio! caspita Sharder! davvero! bellissima! mi piace un botto! spettacolo! davvero! si! davvero! davvero! quel rosino l'avrei fatto diventare blu! però! figo! bravo! bravo Sharder! grande! davvero! sei proprio bravo a fare le livree eh! adesso parte tutto ma! io voglio vederla più da vicino ragazzi eh! e poi andiamo a provarla questo capolavoruccio! vediamo un attimo nell'escapes! eh! li vediamo nell'escapes! il rosa è della subaru! ah! è per quello che ti ha lasciato il rosa! eh! oh! va lo scapes che è arrivato! io ti ho chiesto! oh! faccio! faccio un po' fatica a credere che non finisco giù da cosa a dirlo! ahahahah! non c'è! non c'è! non c'è! è bellissima! allora vabbè dentro! oh! vediamo un attimo! Subaru Performance! Spirelli! Amazon ci sta! Fanatec! GameStop! vediamo dietro su bardo tecnica! Marco Drums Games in blu è bellissimo! ci sta veramente di brutto! dietro bisognerebbe metterci anche un Marco Drums Games da qualche parte dietro! ma si può copiare? davanti è bellissimo il Marco Drums Games davvero! si 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 si! ma se poi queste livree grandissimo Sharder io vorrei portarle su un'altra mezza tipo il Beetle no? si può fare! o bisogna per ogni macchina fare la livrea? domandona! aspetta che gli facciamo vedere a Roby un giretto con questa qui così ti faccio vedere che mezzo che è! puoi salvare i singoli adesivi? puoi salvare i singoli adesivi? allora andiamo a correre un po' ragazzi eh grandissimi ragazzi! sempre in pista! sempre con Marco Drums Games! quasi quasi se il mitico Sharder ha voglia di farsi uno online! che ore sono adesso amore mio? dove e mezza? dai alle 10 se ti va Sharder ci facciamo! fammi provare a fare un paio di cose! si si dietro Marco Drums si starebbe di brutto! però non avrei voglia di farlo! cioè nel senso si può copiare quello lì che c'è di fianco? secondo te Sharder? allora guardate! Roby hai visto? guarda cosa c'è scritto! oh grande! Leo? che sondaggio volete fare ragazzi? Marco comprerà un'altra macchina? uuuuuh! si a tosodaggio! fai! si a tosodaggio! visto che mezzo? no l'arancione è bello! si! ahahah! delle macchine eh! hai visto che bella Roby questa qua? adesso ti faccio... ah non so se c'è replay qua! si! viaggia che è una meraviglia eh! e si possono prendere anche i cordoli tra l'altro! ahhh! por... nooo non ci voleva un errore! questo è stato un mio errore! gravissimo errore! perché avevo tutti i tempi extra... allora... diciamo che con la... con la Beetle della... della Volkswagen quella curva lì si può prendere... più tosta! adesso al massimo te la faccio vedere anche come la prendo con la Beetle eh! credo che ho buttato via la gara! vediamo vediamo! facciamo un altro giro dai! possiamo anche vederla poi in gara eh! nooo ho buttato via un altro giro! possiamo anche vederla in gara eh! aspetta un attimo! ah si perché qui tutte le volte bisogna uscire! a me non si può vedere guarda! te la faccio vedere! non credevo che faceva il replay! non me lo ricordo più com'è il tempo! è bellissima! guardate la libreria! che meraviglia! si si si! oh Chris grazie! allora qui l'ho fatta bella bella tosta eh! guarda sto giro! sto giro non mi sembra di aver sbagliato! l'ultimo sbagliato infatti l'ho schifato! guarda eh! tutti tutti i cordolini fatti bene! sinistra! a largo! a fuoco! cordolino! si frena! seconda! gas! terza! quarta! quinta! cordolino! 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 su di quinta! e qui si mette la sesta! cordolone qua! ciao! ciao dottor master! ah ah! grande dottor master! ascolta! dopo ti vuoi fare un po' di online! ragazzi! volete giocare online? chi ha il gioco? eh! dottor master! sharder! facciamo un po' Kevin se ci sei ancora! guarda qui! guarda qui! cordolino! 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 un po' un po' aggressivo! grande sharder! cordolino aggressivo! e guardate la livrea ragazzi! perché è marco drums games! eh! incredibile! dottor master! guarda cosa mi ha fatto sharder! grandissimo sharder! se non ci sono ancora problemi con la team volentieri! ok! vabbè! speriamo! dai proviamo! se c'è! guarda la livrea che mi ha fatto il mitico sharder! guarda qua! dai voglio vedere! eccola qua! nooo! ho sbagliato! leo che è scappato! sono l'altro! leo! 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 non può scappare! si! 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 perfetto! eh! si! allora guardate ragazzi! leo! leo! allora! fatemi vedere! grazie! io lo volevo vedere più da vicino! vediamo! 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 no! non voglio inclinarti! non si può! eccola qua! vediamo un attimo! ciao amici di Twitch! guardate! che bella! che grande! bellissima! la nuova subarozza di marco drums games del mitico sharder eh! potevi mettere anche il tuo il tuo sharder da qualche parte eh! amico mio! potevi metterlo eh! non so! livrea by sharder e roba del genere eh! eh! bellissima! bellissima ragazzi! andiamo a condividere immediatamente marco drums games team! marco drums games team ragazzi! ho creato il team stasera! devi aggiungere team! ahahah! se rompi i coglioni! devi aggiungere anche team! ahahah! bellissimo! si sharder! quando fai le livree! devi mettere la tua firma! così ti faccio pubblicità! anche sotto qui c'è castrol! si! tutto lì così! allora! guarda qui dove c'è sky active! vedi qui che c'è un punto! lì ci starebbe bene marco drums games! e poi magari di fianco dove c'è il castrol! buy! eh! livrea by! che deve essere una firma bella! si! si! ci sta! la firma d'autore! si! la firma d'autore che hai fatto alla livrea! bravissimo! allora! marco drums games team! team! che poi bisognava scrivere in italiano! però scriviamo poi in inglese! allora! seguite! marco drums games! channel! su twitch! oh! un po' di pubblicità! non fa mai male neanche nel game! ha ha ha! seguite! 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 marco drums games! su twitch! allora! poi facciamo la subaru! suuuu! 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 baruu! c'è stato un sondaggio! vero? si! marco drums! davvero? davvero? che cosa avete scritto di male nei miei confronti? ha 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 ha! che ho le mani bucatissime! comprerai una macchina? ah! comprerai una macchina? comprerai un'altra macchina? direi proprio di si! allora c'è si! si! si si! o si si si! o si no no! che devi risparmiare i soldi! non risparmierò mai! ha 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 ha! non risparmierò mai! si 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 si! quindi sappiamo che! oh! dai che condividiamo queste belle foto! con il muendos! il muendos! è grandissimo! marco drums! al buio! che non risparmierai mai! ha 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 ha! grandi ragazzi! già mi conoscete eh! già mi conoscete! di brut! comunque è bellissima davvero! grazie charder eh! grazie grazie! avete visto l'icona che è fighissima? o sono io col faccione raga eh! è bellissima! quando l'ho fatta un... mi sono messo a ridere per mezz'ora con un sciomoto! allora! quindi! andiamo a comprare una macchina! eh! è finito il soldaggio? si è finito! abbiamo vinto tutti! e quindi? che compro? e andiamo a comprare la macchina! uuuuh! uuuuh! sono state entusiassade con lo loro debutto del 54 bla 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 nel 57 la corvetta SS bellissima! la Sting Rayracer SS bla 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 mówi wanna per matching dei larghi fileti 4 milioni Più 6 quell'altra 10 milioni Dobbiamo rifarmare tutto domani Domani mattina e domani pome Bisogna farmare, farmare, farmare E cosa portiamo sabato? Nessun'automobile Ok, allora ci sto Domani sera, grandissima serata Warzone Se c'è l'allenamento ragazzi Venite a vedermi No, pardon, mi sono dimenticato di salutarla Ah, Bragali, non ti ha salutato Di salutare la moglie Dali pure il tì E già si mette le mani nei capelli Tranquillo Le ho viste anche io adesso Eh sì, eh sì Perché a volte ragazzi Io ve la dico proprio così Non è che proprio Twitch è bellissimo, funziona gratuitamente Anche per tutti È una figata Però a volte Non è che arrivano proprio le notifiche Le notifiche in tempo reale Anche sul computer A volte fa un po' quello che vuole lui Per quello mi piace averlo Direttamente sulla play Eh, che ogni tanto ritarda anche il computer Le notifiche Ieri non andava Ieri non aggiornava niente Sì Uh, che bella sbandatuzzo là Oh, Ferrari Ah no, quella è la Mercedes C'è là quella Mercedes C'è anche questa Ferrari 250 GTO del 62 da 20 milioni ragazzi Tra l'altro Usata una volta No, no Impossibile Non puoi dire Una Mercedes Di genere Ti banno Ti banno da casa La Ferrari Non c'è nessuna Ferrari Che fa quella Con la C Sono tutte bellissime È questa macchina Che fa un po' Allora Io ho la Allora Da dentro È spettacolare Ciao amici di Twitch E amiche di Twitch Grazie Per questo Drift Mi ha toccato Dentro il tipo 250 GTO Ragazzi Io con la macchina ce l'ho Se volete La usiamo Si può fare un sondaggio Volete che faccia una gara Con la 250 GTO Da 20 milioni Si potrebbe fare un sondaggio del genere Cosa ti dite ragazzi Facciamo un sondaggio così Volete vedere la 250 GTO O che corro con la Con la Subaru GR3 Stra fighissima No andiamo a comprare un'altra macchina Dai Perché se no Ma come no Ma come no Ma la 250 GTO Ma porca miseria Ma 20 milioni ho speso Ma come no Dai Dr Master Mitico Robby Dite di si Subaru Eh beh Allora ce l'ha tutti Ce l'avevo Va bene dai Non corro con la Tipo per Carla Grande Robby Va bene Va bene Allora facciamo così Corre Carla adesso Fa un nurburying Dai Ti fai un nurburying Adesso fai un nurburying tu Alle 10 ho detto Gli orari Gli orari va a rispettati Sei la prima che non rispetta gli orari Che ore sono? 9-40 E allora 20 minuti Del nurburying 2-7 Ti va? 8-10 8-10 8-10 Vuoi farlo col bagnato? Oh sì Carla vuole fare L'urburierino Col bagnato Ragazzi Cosa ne pensate? Dite tutti di no? Tokyo Expressway Tokyo Allora Tokyo La odio Robby Cioè La sto facendo solo per farmare È quella che farmiamo È una schifizza Tutale Cioè no In realtà non è schifezza Però è difficile Sì no Tu lo sai come di niente Ma no Non è per niente Non è una cosa seria Sì che cosa Robby Sì che cosa No Che Carla vuole fare l'urburying Eh sì Eh Ve l'ho già perso Dalla domanda che vi avevo fatto Ragazzi Ve l'ho già dimenticato Io volevo Comprare una Concept Però eh Prima di far correre Carla Voi cosa ne dite? Andiamo a comprare Un altro milioncino di macchina? No No La Golf Volevo comprare Sì no no sì Eh vabbè Che te è Sì no no sì E come me le ricordi Vediamo Che corra sul bagnato Ok Sì dai Fai una corsa Spon Fai una corsa Cos'è tociardo? Robby sul bagnato Vabbè ci sta Abbiamo risposto di sì Ah 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 ok perfetto Forse 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 Non lo so Stai dicendo tu Allora famiglia ahahahahahahahahahah questa Toyota c'è la Sharder che vuol giocare chi l'ha scritto? è fatti eh di togliermi spogliarmi? va che mi spoglio Sharder poi sono cavoli tuoi faccio come come certi youtuber che si mattano lì in mezze nude spingilo ah ok penso che sarà un po' duro anche fare quello perché sono un po' in vantaggio a livello peso anche se sto facendo la dieta e sto cabinando ragazzi Marco Drums Games è un grande ok allora vediamo un attimo con gli sbirri dietro che mi stanno inseguendo corri Drums corri Marco Drums c'è la polizia dietro ma facciata come va a mettere guarda ma porca stecca pietà delle patatine hai ragione le patatine hai ragione mi ero dimenticato che avevo le patatine mi ero dimenticato che avevo le patatine mi ero dimenticato che avevo le patatine vedi i masconzini che ti faccio? non te li faccio più eh in live ma chi l'ha detto come perché fai un casino allora regolamento regolamento di twitch allora non mangiarmi le mie patatine no puoi mangiare solo ghiaccioli vuoi un po di spritz allora prima di tutto vi faccio vedere la livrea che ha fatto il mitico sharder a carla allora guardate quella di carla guarda che bella guardate guarda in Giappone quando è che sei andata in Giappone che non me l'hai detto aspetta lei passa lì tanta roba raga tanta roba è la livrea la livrea dottor master ha fatto la livrea anche per me e non sto facendo niente se non ti muovi lei cambia che continua a cambiare si si guarda che bella bragali rosa la voleva rosa guarda guarda bella se non ti comprare una macchina così l'avrei fitturata tutta così guarda madonna ragazzi se è subaro però è spettacolare la livrea l'ha fatta veramente benissimo grandissimo sharder ma raga qui si sta parlando di una macchina da paura la forza 4 ore di clemanza è messo anche vizia questo l'avrei vedere l'altra cosa l'altra foto qui è lo scape amore non è quello vedi che è incredibile questo gioco ragazzi cioè andrei così nella città andrei veramente così è più bella quella di casa si è più bella no no è vero è vero è vero Roby questa ha fatto un capolavoro no la mia a me piace tantissimo anche la forza anche la mia è bellissima va vuoi mettere tra l'altro che ha messo games che ha messo games in blu è stata veramente una genialata grande grande sharder davvero allora se notate di fianco ma anche qua dobbiamo mettere i nomi di lui eh deve farlo deve farlo deve mettere il tuo nome ma lo puoi cambiare no possiamo cambiare il tuo nome ma che due coglioni cioè lo fa lui no ma li facciamo certo ma no metti lui sharder metti dove vuole bellissimo il polipo Roby ma qua fanno quelle braccia più lunghe Roby fallo con le braccia più lunghe e polipo bellissima bellissima vabbè dai gioca bella 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 allora andiamo preparo un burgerino tanto ormai mia moglie è capace di farlo anche senza di me ma nel senso che io rimango vado solo a prendermi un ghiacciolo ciao deciso dimmi un nome please nome di cosa? Giuseppe dimmi un nome oppure Johnny ecco guarda bellissimo vai Roby Giuseppe o Johnny Johnny mi piace mi piace di brutto perché quando devo pure il ghiacciolo oh bello sto a casa sono tranquillo bagnato pesante ok grazie deciso grandissimo grazie a te grazie a te è deciso grandissimo Giuseppe o Johnny o Giovanni come vuoi allora Giovanni no Giuseppe decise intanto adesso vieni qua decise viene sempre a trovarci lui grandissimo ma no devo dar per il ghiacciolo allora intanto ha cominciato beh metta dentro schischino una una richiesta si aia oh ragazzuola aspetta Marco no 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 che vuoi oh ragazzi fanno mia che si Roby hai già creato la ah ok ok allora aspetta c'ho qua i cani con i rocci non sento niente amore c'è nessuno che fa ah ok ah voi mi sentite perché non c'è nessuno che gioca con me Chadra non viene a giocare con me va che bella la mia macchina si si sto facendo giusto giusto ma aspetta mi è messa in automazio con la macchina o marcia ne marcia non va un scatto le marce devi imparare pian pianino poi ti faccio imparare con le marce arrivo ragazzi sono dietro non ti faccio non ti faccio non ti faccio non ti faccio sono alti in cima così qua ti c'è un'altra qua ah sì è vero così è vero poca vacca quella lì va sempre fuori ne è vero sì qua qui è vero la mia macchina la graffa non c'è dai 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 ah adesso stavo vedendo dove era il cugino oh ma è vero oh no lo ho preso il cordolo il cordolo è sì se no questo là oh amore tu dovevi essere qua di fronte ma sono aperta non ci vedo le curve allora vai guarda un po' no non ci vedo se non vieni qua non ci vedo non ci sto non ci sto non ci sto Elena Elena ho bisogno da scopi loco vieni arrivo non devo frenare lì peggore devo solo bilanciare esatto 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 I saluto saluto Ok, vai Carla, vai Carla. Ah, ma esco perché esco, perché sono bagnato, adesso mi sono ricordata che è bagnata la strada, hai capito? Eh, che sì, no, è una figata è bagnato, però adesso mi sono ricordata che è bagnato, perché quello che vado, cioè che vado dritta come non so che cosa. Vai, 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 vai Carla, vai, vai. Hai capito? C'è giù l'amore, non mi ricordavo più che era bagnato, perché è quello che sto andando come non so che cosa? Mi perdo, vai, vai. Guarda, da quello che posso fare la garezza, così, se non siamo online e sentire la frena. Vai, gas, la disco. Pazzerizza. Gas, gas, gas. Gas, 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 gas. Piena, pazzerizza. Gas. Ciao, ciao Roby. Ciao, mi si qui, grandissimo Roby, è vero, è vero, hai ragione. Buonissima. Grazie, benissimo, prendiamo, vai. Gas, pira, parte un po' velocina, dopo arriva la curva da terra. E' vero, è vero, è vero, grazie Roby. Che è detto? Tomy. Wow, vai, 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 bravo, bravo, bravissimo. Grande, il posto lo metto, è vero, è vero, è vero. Ciao, mi sento qui. E' amiche adesso, dico anche. Sì, perché poi c'è la giù, 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 la giù. Oh, sono riuscita a tenerla. Brava. Pazzerizza, pazzerizza. Emo, Emo. Maria, vai, 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 vai è bagnato ah Roby scusa e non mi ricordo mai c'è il nome che è Roby è una ragazza grandissima Roby grandissima ma infatti vedi che io dico sempre ciao amici e amici adesso voglio vedere che Roby ma è il Roby che stiamo parlando fino adesso è Roberta allora esatto grande Roberta dai accendola sai Roby è una cosa che mi dimenticherò sempre vero no no adesso no Carla si ricorda io mi ricordo esatto grandissima grandissima dai casca c'è dai casca fredda 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 Il ghiacciolo, no, no, qua l'ha preso il ghiacciolo, ho fatto un altro sprint, ho fatto un altro sprint, ma sono un brianto ragazzi. No! Ma non sono morta. Dai, sul dritto, baby. Iiii, come, 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 come. Vai cos'è? Vai, 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 vai. Porca vacca, porca vacca, porca vacca. Vai, 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 vai. È lo sprint. Attenta, attenta, stai esagerando. È l'odore dello sprint. Stai esagerando. C'è il... C'è il... Eh, ma c'hai il sapetto che è là in fondo. Non lo so, scivola. Questa parte di te è ridicola. Perché? Guarda. Eh, è dritto, come. Rena. Bravittima. Rena. Dritto sta qui, va? Ma non sa via insederì. Rena. Come va? Oh no. Sì, sì, no. Sì, è la sua vita. Eh. Perchè, amore? Dai, 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 diciamo Ti ricordi adesso, a su di tracca? No Devevi togliere il calcio, o pieno? Devo pieno Ok Perché il freno non mi fa più giocato Ok Merdo Bravissima Ciao amici, amiche di Twitch Ciao amici Ho tanti chili di freno Brava, brava Va che l'hai beccata in una curva Adesso però devi un po' frenata, eh Tutto adesso Bravissima Trea, 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 trea Brava Grande Carla Sì, sì, si può Robby Bastante l'ho beccata, grande Shader Arrivo Sto arrivando Shader Velocissima Brava Ho dimenticato Ho dimenticato metà delle cose che l'hanno vista Era beniglia Ok Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Ok, cosa? Mon amour Ci passo Ok, andiamo nella stanza che ha fatto Shader Grandissima Roberta Grandissimo Shader Grandissima Allora, non è Robby Ma no, Robby Ma no, Robby Grazie Robby Ma no, Robby ha detto No, sono Robby Ma no, mi hai detto male Brava Carla, grande Robby Shader, guarda questo pezzettino Eh, ma no, Robby Ma no, Robby Eh, vediamo Vediamo solo un pezzettino Vediamo È vero, è vero Aspetta, vi faccio vedere un po' di pilessia No Mamma mia Ci sarà un punto dove va dritta Dai, dai, è stata bravissima È stata bravissima Grande Carla Dammi il 5 Col pugneto Ok Andiamo nella stanzetta di Shader Che sono le 10 Assolutamente sì Ma le 10 Ma che cosa ce l'ha su con questo 10? Perché alle 10 si fa l'online Prima non si può È tassativo È una di noi È vero, esatto, esatto Bravissimo Poi con le bagnate è una figata Shader Ci si diverte molto Però non mi ricordo Grandissima Roberta È una di noi È una di noi Grandissimi ragazzi Allora, andiamo a A Robby A vedere Un po' Il Online È bello il cambio manuale Io ho anche il cambio manuale Ragazzi È qui che non lo vedete Qui guarda C'è proprio la pommellina Bellissima la pommellina Non so se si dice la pommellina Ma io dico la pommellina Ma io dico la pommellina Ma che me ne frega Il canale è mio Dico la pommellina Oh no raga Il canale è mio Dico la pommellina Shader Marco Drums Games Bragali Racing Oh Questo sì che riempie il cuore Bravo Bravo Questo è un titolo Richiesta eroe Grandissimo Chris Sei fortissimo Grande Chris Bravissimo Amico Disney Boy Fic Sei iscritto Richiesta eroe Robby Grande Batman Che figata Arrivano in ritardo Allora Impostazioni Dell'auto Gomme morbide Va bene No Hai fatto Monza Ai 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 Robby Sì Sto guardando mia moglie Con fare sospettoso Perché se la facevo io Già mi sfidava Grande Fox Frena 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 Dovi frenare a 150 metri Ok Adesso ti do una mano Ok Vedi che va Viaggia Eh ma viaggia perché minchia Adesso Gas tutto Sinistra Grande Fox Grandissimo Frena 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 150 Sinistra Destra Da seconda Vai Da seconda Dai gas Non troppo Vai Tutta 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 Piena Adesso è la terza Frena 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 Da terza marcia Amore mio Quarta sei fuori No Sei partita in quarta Terza anche questa Frena Frena Ok Adesso la fai Tutto Sotto il ponte A sinistra Cerca di stare in mezzo Poi vai un po' A destra Ti prepari per la scarica E quella a sinistra A destra Da quarta Terza a quarta Frena Sì Bravissima Bravissima Ti puoi passare anche un po' più sopra il cordolo Adesso dai gas ma attenzione qui Devi tagliare un po' sui cordoli per andare forte Piena tutta Piena tutta Parabolica Stai a sinistra Prendi di quarta Butalo fuori Frena Bravissima Dai No da terza Amore Il secondo è troppo Adesso Shardel Vai giusto come devi andare Così ti vede Sì Vai giusto Fai un giro buono Così ti vede come prenderle Ha un riferimento Frena Ecco il riferimento È andato Bravissima Bravissima Vai Sinistra Guardi su Vai Gas 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 Ti è venuto addosso Sade la mia macchina Attenta Sinistra A destra Scusate Scusate Allora adesso A 150 Freni Vai Restra Frena 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 Ok Bravissima Venta Ha toccato dentro Vai 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 Stai a sinistra No lui Sinistra Sinistra Frena Frena Terza Vai Non so Visto Sinistra Adesso la curva a destra E da terza Frena Frena Andiamo a dire Un pelo prima Un pelino prima Adesso è ripresa a fare la battaglia con lui Sinistra Destra Eh perché prendi troppo tardi Devi vedere i segni Prenda Le gare sono così Attenta No 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 Troppo gas Troppo gas Vai fuori Troppo gas Devi parzializzare nella curva Quella lì Parti in qua Terza Quarta Ok Dai gas Ma parzializzi Fai destra Sinistra Quando sei già impostata su quella Allora dai gas Per l'ultimo Che vai esci fuori Bello forte Sti facevo Come farla Ragazzi Ragazzi Brava Carla Madonna Sharder Non ti ha sgridato Perché sei tu Stai sulla sinistra Vedi che ti perdi Non devi pensare ai fatti tuoi Quando sei sul Monza Monza è storica Vai Gas Tieni a destra Tieni a destra Che ti porta fuori Bravissimo Poi tiri dritto Tira dritto Stai sulla sinistra Tutto gas Dai raga Grazie Fox Senta Senta Trena 150 Bravissima Puoi tirare anche un pelino più avanti Tu freni abbastanza forte No Poi sbagli qua Se arrivi troppo corta Poi non che devi andare A 100 all'ora In una curva da 60 Vai gas Gas Tieni Pieno 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 Porca Fox Frena 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 Sì Grandissimo Entrato Sei di destra Vai Cordolo Vai Benissimo Cordolo Cordolo Vai Sinistra Stai a sinistra Stai a sinistra Stai a sinistra Frena Non sei a sinistra Sei in centro Terza Vai Gas Fazzializza Vai Stai a sinistra Sei in centro Così Frena Terza La seconda La sbagli Perché sta in centro Oh Fox Grande Fox Dai che sta imparando Che poi quando impara Anche Monza Ragazzi La curva Non aspettare che arriva La curva Devi anticiparla Comunque l'hai fatta meglio Adesso Visto Quando tu giri a destra Vedi che arriva l'altra Dai subito dall'altra parte Non troppo veloce Che sennò ti scoda Ma Devi anticipare la curva Bravissima Frena Parta Buona Valla Basta Vai Dai gas Devi anticipare anche qui La curva Devi sempre dargli un po' Più di Cos'è Lei Lei è girata Tende a far così Ma ti tiene dentro Grandissimi ragazzi Grande Bragali Brava 1.54 Dai Attenzione adesso 150 giusto Freno Se non hai troppo poco Vai Non ti devi spostare a sinistra Però Adesso l'hai sbagliata No 150 Ma l'hai sbagliata completamente Non hai frenato tutto E stai sulla destra Il centro Devi stare a sinistra Vai Fox Vai vai corri corri Che ti vede Vai vai Fox Vai a manetta E' un po' Briaco Fox Frena 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 Non stai attenta Mo Cosa pensi Tata Dai Frena Eh mo Eh dai Io dai Sinistra Qui non stai mai a sinistra Non la farei mai bene Monza Frena Terza E stai sulla sinistra Perché esci Esci forte Dai gas Sei già a sinistra Sei in centro così Così sei a sinistra Boh Frena Bravissima Vai 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 Gas Brava Perfetto L'hai fatta Bravissima No L'hai preso anche Fox Fatta talmente bene Che l'hai preso Adesso devo starti troppo Ehi Allora Andate Va al Fox Va al Fox Nei campi A vendemiar Oh Fox Si sbordella Frena 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 Vole mia Tromerti Boom 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 Shakalaka Oh che brava Brava Oh attenta Frena Frena Ciao Manuel Grandissimo Come stai Manuel Stiamo correndo un po' Per divertimento Smanuelito Attenta eh Sta correndo Carla Ciao Stai imparando A correre forte Per fare Le gare Strafichissime Manuel Frena 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 Se vuoi entrare Manuel A giocare con noi Se ci sei Volentieri Buttati dentro Non c'è Il party stasera Quindi buttati dentro E boom Facciamo un po' Di garette Facciamo in realtà Questa Poi ne facciamo Magari un'altra Poi concludo Due tre cose E andiamo Tutti a letto La prossima volta Ci sono Oh dai Vai tra Vai tra Manuel Volentieri Quando siamo online Sai che a volte Non faccio l'online Faccio solo l'offline Ma quando faccio l'online Se ci sei Volentieri Ok amico mio E poi fai pubblicità Al canale Amico Sharder Che fai Frena 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 Ok vai Terza Bellissimo Vai Dai Dai Altra parte Gira 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 Gia Bravissimo Vedi che devi anticipare Mo Sinistra Oh tranquillo Manuel Tranquillo Tranquillo Sai che ci divertiamo No Oh Manuel Basta che non me la fai In contromano Perché se no Giuro che ti ribalto Ti ribalto dal volante Bellissimo Perché il contromano Lai è stato fortissimo Però Sì Però quando c'era Il mio giro veloce Il mio giro veloce Ti avrei ribaltato Davvero Dalla seggiorita Ti portate Divertirsi Amici miei Domani Manuel C'è la mega Frena 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 Porca miseria Raga Qui si va Mamma Mia Stava pensando I cacchi suoi Tanto che fa Monza Con una GR3 Vabbè Domani Grandissimo Manuel Amici C'è la live Con Warzone In teoria Mi alleno Col mitico Morris E il mitico Michele Per fare I campionati Mondiali Chiaramente Io non ci vado Loro Vi aspetto domani C'era Warzone Abbiamo fatto Due vittorie Pazzesche E Morris Ne ha ammazzati Tipo 23 Quindi Bravissimo Brava Dai L'hai capita Vai Gas Stai sinistra Bravissimo Brava Brava Frena Ok Terza Vai 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 Non perde il tempo Grave Brava Vedi a dire Brava Brandissimo Ciao Phil Vieni che tu Vieni che tu Parti una garetta con Carla Frena Frena Amore Frena Amore Il bello è che Carla legge i messaggi E poi va dritta Grandissimo Phil Attenta Questa la sbagli sempre Adesso te la faccio fare Ah Poi vai a nanna Va bene Va bene amico mio Dai Dai Sai che quando Siamo online Se vuoi venire a Divertirti Ci siamo Sempre 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 Allora amico Phil Stasera ho comprato Un sacco di auto No adesso basta farla partire Falla partire Mitico Charger Vai partire la carrozza Era più tanto per farti imparare La pista Ancora non l'hai imparata Appena fosse Ci siamo insieme Grandissimo Phil Grandissimo Phil Ecco qua Un bel muro Bellissimo Proprio Grande Phil Caspita Prima dovevi vedere Andava fortissimo Su Sul Nurburgrino Con l'acqua Carla E' veramente brava Penso che c'è Beh stasera non è andata In granché Però Di solito Minchia Che è brava Stasera non c'è Sta pensando altro Perché fa le curve Ogni tanto Così Senza pensare Grazie per la foto Carla Che c'è il torcicollo E' vero E' ragione E' ragione E' ragione Dai Concentrassi Vai E' ragione Concentrassi Concentrassi Non lo so Concentrassi Attenta Frena Se no li vai addosso No Non vado Dai Molla Molla il freno Non devi dare poi tutto sto gas Hai dato gas Hai dato gas Non hai frenato comunque Quindi è troppo Visto L'hai perso Bucatevi le gomme Grazie 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 Attenzione 150 Prena Bravissima Sinistra Fox Si è infossato Dai da che lo puoi prendere Allora Sinistra Stai No no Centro Prena Aiaiaiaia Ma se me l'hai fatta Cento volte Anche adesso Sei da destra Devi andare a sinistra Frena Frena Ok Anche prima devi frenare Adesso dai gas Adesso dai 10 giri devi fare Eh È il decimo giro Frena Non ti stai concentrando proprio Eh no Eh amore Sette ne hai fatti prima Adesso sono otto Otto giri che stai facendo Sottapista Ne hai fatto otto giri sbagliati Grazie Prego Eh non vuol dire giocare con te Allora fallo tu scusa Prima vuoi copilota Io ti dico come devi fare le cosse Impara amore mio Dai sinistra Non ti sto gridando È che se mi fai la curva a destra Per quattro volte Ti dico di andare a sinistra Eh Frena 150 È la parabolica Quarta Terza è troppo poco Dai gas Ma devi già girare prima Tutte le volte la sbaglia Arrivi troppo fuori Dai Sinistra Bravissima Vediamo adesso se ti ricordi il giro 150 Si frena Altro giro Altra corsa Amici miei Amiche mie Frena Stai in centro però Se stai in centro Non lo riesci a farlo E dove cazzo devo stare Devi stare a sinistra Se la curva è a destra Stai a sinistra Se la curva è a sinistra Stai a destra Stai a destra Vai vai Non devi frenare Perché frena Perché frena? Perché mia mamma Non mi ha dato di frenare Curva? Frena Ok Quella fai benissimo Frena dentro Amore Seconda tesoro Frena Adesso è la terza Due Devi stare a sinistra E sei a destra Ok Frena Terza vai Dai gas pian pianino Sinistra Stai a sinistra Frena Troppo tardi Vai Dai Pala tu Que giusto 基 based Chi Tras Quasi Che Hai Che Chi 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 la parabolica tira, 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 tira è la parabolica che ti porta dentro grande fox 141379 grande fox tanta roba, tanta roba amico e questa è dritta è bello che non vuole che gli dico le cose non ne fa uno giusto non ne fa di giro ciao amici miei ciao amiche se non sei iscritto al canale iscriviti immediatamente sta correndo Carla sta correndo la mitica Carla la Bragali tutto bene tu come stai? oggi sono veramente stanchino se ti devo dire la verità cioè proprio oggi è una giornata stanchevole 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 si si Carla sta benissimo grazie Monster grandissimo grandissimo tu bere perfetto l'importante è quello dai raga oh domani sera amici e amiche mie c'è una mega live allenamento con Warzone io Morris e il mitico Michele quindi abbiamo fatto delle cose fantastiche ieri sera però c'era un po' la linea che andava fate un po' in tutta Italia devi imparare i punti delle staccate si 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 è quello che gli dico sempre io si è buono che delle frena ah 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 freno delle cartelle ti hai visto i punti di riferimento amore e poi non freni tutto perché non freni tutto che parola si freno amore no non hai frenato tutto io lo vedo quando io ti dico perché io vedo i cosi di che tesoro mi dici non l'ho frenato perché non me la ricordo no che tu l'ho frenato non è vero adesso adesso dov'è la curva la curva è ok tu stai a ok allora fallo perché devi tardare non il bordo però attenta venga la sinistra frena io non ho visto perché eh ma non ho vedi la cosa rossa si 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 ma tu anche il Gran Turismo ce l'ha mi dico Kevin ma Kevin vuoi venire a giocare? senza il bordo va bene a sinistra ma non devi stare sul bordo attenta adesso 150 stai sulla sinistra frena non so se il 17 ce l'ha ah ok 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 soldi bisognerà vedere no vedi che hai sbagliato completamente è perché devi frenare di più amore mio hai frenato troppo presto lascia andare e poi la fai senza frenare e devi comunque frenare in curva quella curva è da 50 all'ora non devi passare nel cordo devi solo frenare frena 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 non freni no stiamo parlando di quella curva che sbagli tutte le volte dove devo andare oh Giovanni domani sei a scuola hai ragione hai ragione Giovanni oh mi raccomando ti aspetto domani Giovanni fai pubblicità a scuola perché il mitico Morris viene a giocare con me eh e ti ripeto grandissimo Giovanni prima che scappi eh se è allenamento sono io Morris e lui quindi entrate dentro ci divertiamo in chat una cosa è andata se per caso salta la live con il grandissimo Morris e Michele di allenamento giochiamo insieme ok quindi comunque collegati in chat in live scusami alle ore 21 ok ragazzi domani ore 21 ecco grandissimo pure io stacco buonanotte ciao amico mio io l'ho attivato non lo so non l'ho ancora visto mitico Kevin posso giocare assolutamente si entra dentro ma siamo già amici Monster sono in live grandissimo Giovanni grazie 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 ci siamo già passati no allora bisogna fare una cosa ho bisogno del mio telefono vai su la Playstation ok Monster e cerca Marco Drums ho un po' detto male però è Marco Drums ho il mondo e il mio logo meraviglioso che è questo papo il drago ok allora quando l'hai cercato e mi hai trovato mandami la richiesta amico che te l'accetto ok così vieni subito dentro a giocare e dopo ti spiego già come funzionano le live di Marco Drums la maggior parte le faccio offline quando andiamo online giochiamo tra amici così ridere scherzare insomma si dà quattro botte ma se anche si fanno delle gare fatte bene senza botte senza roba è meglio però l'importante è che ci divertiamo ok quindi le grandi like di Marco Drums e ti ringrazio per il seguito grazie ho visto adesso perché si aggiorna un po' male si vede che ieri i problemi di linea hanno un po' influenzato tutto e tutti vedo che anche ogni tanto le cose che ciao ragazzi seguite Marco Drums Games ragazzi e ragazze mitici amici amiche nostre di Carla e Marco Marco Drum scritto così esatto esatto Monster 1.41 bravo 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 3.87 caspita caspita Sharder eh Fox è andato forte eh Fox è andato forte bravo bravo amore mio visto oh caspita vabbè lì ho preso il cordo non può capitare bravissimo Monster pianeta sarebbe l'immagine del mondo di Little Big Planet quando l'hai mandata dimmelo che te l'accetto così ti metto nel gruppo no sì fatti ok adesso è arrivata ti accetto subito aspetta così poi diventi mio amico e dovresti quando vai in eh dopo ti metto dentro nel party dammi il mio cellulare amore io per piacere tu ne fai un'altra o lì no basta c'ho male dappertutto c'ho male anche i piedini ma ragazzi facciamo questa beh dai bravissima 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 grande perché loro sono bravi che bella che bella questa facciamo una al nurburgring normale al nurburgring la fa monster di master ciao ciao facciamo una al nurburgring l'ultima poi vado anch'io amica subito ha detto ok monster ti ho accettato normale non buio ok allora dammi ok mi scordo allora allora ragazzi non sto giocando con Marco monster dovresti vedere adesso sta corriendo Carla in Alemane entra twitch twitch entra no twitch se vuoi fare solo una dopo la gente si fa entra dopo la liga ciao dai charder c'è anche il fratello di Carla che guarda dai 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 ragazzi allora monster adesso dovresti cercare le stanze dei tuoi amici e dovresti adesso che io entro riuscire a entrare anche te ok charder mi raccomando fagli fare bella figura fox mi raccomando sbattetevi contro i muri allora fai un attimino intanto che entra anche fox e il mitico monster ok dai vedete di entrare intanto comincia a correre un attimino aspetta che vediamo un attimo le gomme mica che c'è ancora come l'altra volta quelle da bagnato no morbide perfetto morbide va benissimo come morbide eh perché intanto almeno i ragazzi vedono qualcosa scusa ti inizi a esercitare hola brasilo ah ah marcello un bello marcello guarda che linda Carla molto brava guarda che c'è un carro che sto corriendo è stato il è fatto per me è stato che è stato nostro amico è stato nostro amico che lì è stato E poi mandare la foto per voi. Posso mandare la foto per voi, Marcello? No, 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 mio amore. Meno gas. Come mai Monster? Forse perché siamo amici da troppo poco? Non lo so. In teoria aggiorna, nel senso non c'è la pista. Allora, tu Sharder non è tuo amico, quindi non potrai mai vederlo. Però io sono dentro, adesso che siamo amici dovresti vederla. Ti consiglio di uscire dall'online, nel senso esci dalla... Ritorna dalla schermata principale, rientra dentro nell'online e... Ciao, ciao, ciao Marcello! Obrigado! Obrigado, hermano! Poxa vida! Poxa vida! Poi parlare con voi, ne? Adesso ha fatto una garigna. Ciao, 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 ciao! Poi venire, poi venire! Il mio meraviglioso amato Brasil, ragazzi! Stava andando benissimo! Concentra, sconcentra di nuovo! Frena, frena, frena! Amore, la pista è quella lì, adesso è asciutto, quindi puoi andare più veloce ma devi anche frenare. Ok, perfetto, perfetto! Attento, attento! Guarda che brava, Marcello e Carla! Molto brava! Attenzione qua, devi frenare! Bravissima! Frena! Il Nürburgring eh, Marcello! Frena, 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 frena! Eh no, che non l'hai freato, ho visto! Ah 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 ah! Ma poi? Frena! Frena! Eh ma io, come ti aiuto amore mio, frena! Cioè, frena, accelera e partializza, non va bene come ti spiego! Frena! Attenzione, vai! Prova a invitarmi tu, come faccio a invitarti? Frena! Eh, non saprei come ti invito! Ma è possibile che non la trovi quando vai su piste? Quelle degli amici? Monster? Sono morta! Perché dal party non ci siamo! Aspetta! Come, come possiamo... Aspetta, aspetta un secondo mo! Aspetta eh! Vediamo se riesco a invitarti! Allora! Guarda la mappa! Vedi eventi! Impostazioni! Aiuti! Controller! Video! Nome stanza! Eh, nome stanza! Sharder! 98! Marco Drums! Bragali! Racing! C'è scritto sopra, guarda Monster! Sharder! 98! Spazio Marco! Spazio Drums! Spazio Bragali! Racing! Sì! Come si fa a invitare Sharder qualcuno? No, guarda la gara! Anche no! Vai al tracciato! Non so! Eh, mitico Monster! Non so come faccio... Uè, Dottor Master! Non entri dentro! Sì, è dentro forse Dottor Master! Ah, grande! Eh, no! Stavo dicendo al mitico Monster di trovare la sta... Sono qui! Eh sì, ti ho visto, ti ho visto! Scusa! È che c'è la mia faccia! Vedi dove c'è! Strano che non la trova se siete amici! Appunto! La fase di accesso è conclusa! Quando trovate l'inizio? Marco Drums! Sharder! È strano Monster, eh! Ui, mio urmano! Grande! Grande Bragali! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Stiamo iniziando una gara pazzesca con Bragali che guida! E eh... Sto solo aspettando l'amico Monster! Per vedere se riesce ad entrare! Ti fai vedere la gara Monster? Se la facciamo così ragazzi! Intanto che Monster cerca di trovare la gara e la pista! Fai partire la gara Sharder! Così fate questa! Carla poi dopo va a parlare con il suo fratello! E poi dopo eh... Se riesce ad entrare Monster! Entra con me! Esatto! Magari esco un attimo anch'io dal... Dall'online e rientro così magari è per quello che non ci vede! Capito Monster? Proviamo a fare così! Se per caso Monster stasera non riusciamo a giocare perché io ne farò un'altra! Poi si va a letto che sono già le 10 e mezza! La prossima volta tanto nel weekend Monster io gioco eh... Ci facciamo un'altra mega scorazzata! Ok? Quindi se riusciamo volentieri! Se non riusciamo tranquillo! Guardati la gara! E facciamo ancora! Alla quanto frediamo! Ecco Marcello! La gara cabot! No! No! Partita no! Fox è indiavolato! Fox è indiavolato ragazzi! Frena! Frena amor! Ok bravissima! No dai! Togli gas! Togli gas! Brava! 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 Sinistra! Togli gas! Anzi frena! Frena! Bravissima! Va Fox è andato fuori! Attenta Fox! Grandissima! Potevi forpassare! Attenzione amore! No! Non devi mai! Perché ti prende quella foga di super sali! E come è fatto a non vedere la pista? Mo dai! È il foga per superarlo! Dai! Frena qua adesso! Frena! Non è che perché riparti va a 150 all'ora sta macchina in terza! Vai! Toccofano su Guilio! Dai gas! Dai gas! Ciao amici bei e amiche di Twitch! Attenzione! Forse frena! Bravissima! Brava! Vai! Eh! Però sono 4 o 5 punti che non ti entrano nella testolina eh! Però è così ragazzi! È bello di correre e divertirsi! Attenzione! Andare a 200 all'ora! Attenzione! Tenta! Non dar gas! Frena! 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 Quando ti sta per portare fuori togli gas! No! Adesso! Parzializza! Bravissimo! Te ne rendi conto che scivola verso il fuori no? La prima cosa è togliere gas! E poi frenare! Frena! Bravissima! Oh che ti sei ricordata! Frena adesso! Frena adesso! E frena ancora! Frena ancora! Perché è stretta! Frena! Bravissimo! Vai! Parzializza! Parzializza! Grandi ragazzi! Ciao amici di Twitch! Bravissima! È fatta da Dio! Vedi? Devi parzializzare e frenare baby! Stiamo correndo con la Subaru GR3 che è uscita da poco dall'aggiornamento e è Livreata! Livreata! Da grandissimo Sharder! L'amico Sharder eh! Frena! Ok! Dai gas! Gas tutto! Gas tutto! Attenzione adesso! Questa! A parzializzare! Bravissima! Anzi a frenare qui! Ah hai frenato in curva! Perché stai andando più forte capito? Di quando vai col bagnato eh! Per quello che devi frenare un po' di più e parzializzare! Vai! Frena! Qua sono tutte una dietro l'altra! Dopo il punto dove si tira ma poi non è il punto dove si tira! Ciao amici di Twitch! Amiche di Twitch! Mi raccomando iscrivetevi al canale grandi! Comunque Monster prova a vedere se ti fa entrare eh! Perché la prossima esco un attimo, rifa la stanza, andiamo a Dragon Trail! E' perché sembra facile amici amiche mie ma... E' un urburing! E' tanta roba! Poi con questo tempo qua che c'è anche il chiaroscuro sulla pista! Non si vede neanche dove è la pista a volte! Eh! Con il chiaroscuro! Grande grande Monster! Per accelerare il tempo c'è di... Eh si! E' speciale! Eh beh però al sole... Qua è al sole! Là ci sono gli alberi! Eh Monster! Comunque adesso quando poi stacchiamo questa... Ciao amici di Twitch! Amiche di Twitch! Benvenuti ragazzi e ragazze! Scrivete in chat così vi saluto! E se non siete ancora iscritti iscrivetevi al mio canale! Grandissimi! Corriamo Marco Drums Games e la mitica Bragari! E Carla! Beh Marco Drums Games sono Marco! Ah! Frena! Frena! E' bravissima Carla! Stiamo correndo online con voi amici che mi seguite! Facciamo le garettine insieme! Attenzione dai togli gas quando è così! Vai! Io gli sto dando una mano ogni tanto per la pista perché è troppo lunga si confonde! Ma comunque mi confondo anch'io quindi alla fine della fiera è una confusione totale! E iscrivetevi al canale eh! Grandissimi! Grandi grandi! No Monster ti stavo dicendo scusami che adesso quando finisce questa io esco proprio dall'online e ritorno dentro! Magari è una questione che non ci vede perché... Ehm... Trovata! Bastava riavviare il gioco! Ah! Vedi! Grande! Dai dai! Eh! Allora! Eh! Diciamo che l'Urburing adesso poi esce! Però se vuoi entrare e vedere la gara... Dopo rifala la stanza che andiamo su un'altra pista e quindi poi la devi ricercare ancora! Però si vedi che funziona così! Devi uscire e ricercarla perché siamo diventati amici da troppo poco tempo! Ho capito! Ok! Dai! Scusa amore mia stavo parlando! Gas! Gas! Frena! Ciao amici! Frena! Il Tenebra è entrato! Grande Tenebra! Eh! Frena! Tenebra è già scritta amore mia! Vai! Bravissima! E quando è così è un po' troppo! Capito! Frena! Fai un destra e sinistra che vedi che è troppo! Devi dare giù il gas e poi andare a frenare! Grande! Bravo! Aspetta! Aspetta! Frena! Mi scazza un po' perché sei bravissimo amore mio! Dove ero? Non lo fai davvero bene! Frena! 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 Bravissima! Ciao amici amiche di Twitch! Grandissimi! Benvenuti ragazzi! Stiamo correndo online e sta correndo la vidica Bragali! La bellissima Bragali! Attenta al bordo! Ok! Frena! Ogni tanto l'aiuto ragazzi perché è veramente lungo il giro eh! Cioè sinceramente sono otto minuti! Eh amore allora non ti aiuto mai! Vai! 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 Dai gas! Allora l'inizio lo sai che è lento e lo sbagli sempre! Adesso vediamo se ti ricordi di stare in mezzo! Brava Carla! Ragazzi buonanotte! Grazie alla prossima! Ciao Roberta! Grandissima! Ciao ciao ciao! Oh se vieni e non hai niente da fare ci vediamo domani sera eh Roby! Grandissima grandissima! Buonas noces! Buonas noces! Eh perché qualcuno ha fatto qualche botto! Siamo in tre! Uno di due! Frena! Oppure... Eh si vedi! Fox ha aspettato no! Grandissimo Fox! Ciao! Grazie a voi! Grazie sempre! Bella Roby! Grandissima! Bravissima Roby! Bello bello bello! Ti aspettiamo domani se ci sei eh! Tutti i giorni! Tutti i giorni! Fai pubblicità! Tutti gli amici! Parenti! Ok! Gatto! Cane! Gatto! Fai l'abbonamento ai suoceri e i nonni! Ok! Allora Sharder rifai la gara e fai Dragon Trail che corro io! Grazie! Un abbraccio a tutti eh! Mamma Dottor Master! Bravissimo! Bravissimo! Ragali adesso va a... Ciao amore mio! Bravissimo! Con il nostro fratellino! Grazie mille Sharder! Grazie! Phil! Di Master! Dottor Master! Sì! Ehm... Fox! Ma tieni l'assetto! Non sospetti niente! Sì! Ah! Sharder con Dottor Master! Ok! Ciao! Pensano che uno l'assetto! Grazie a te Carla per la gara! Grande grande grande! Sì! Sì Sharder! Grazie mille! Sì! Ok mostra! Bravo! Allora! Fai la gara Sharder! Dottor Master! Ciao Carla! Ciao 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 ciao! Vi saluto a tutti! Saluta gli saluti! Che ti chiamo di un fratello! Chiama Marcello! Ciao Marcello! Se sei ancora in a live! Obbligato Marcello! Obbligato! Un beccio a tutti e buoni! In Brasile! Io volevo lag a bestia! Maledetto team! Lag! Allora, Dottor Master, ieri addirittura tutto il team era bloccato Perché mi dicevano anche i ragazzi che volevano giocare a Warzone E il team ieri ha fatto un bordello Un bordello proprio Dottor Master, l'hai fatta? Io un po' ti vedevo Fai... Ah, eccolo qua Allora, perfetto Lo so, non andava niente Eh ragazzi, così l'online fa anche un po'... Vi devo dire un po' la verità Sto Gran Turismo 7 che va un po' a lag Non è che proprio sia proprio sto... Sto Gran Chien, neanche lui, eh Quindi va bene, va bene che le linee fanno schifo Eh, infatti Però anche Gran Turismo non è proprio il top Perché non vedi bene il tipo davanti Va tipo a scattucchi E allora è un po'... È un po' così, capito? Allora, io sono dentro in teoria Vediamo un attimo ragazzi e ragazze Che cosa succede? Ma cos'è che mi ha aperto Facebook? Ma sei fuori come un melone, televisione? Ma no... Ma cos'è che c'ha... Ma non lo so, raga Mi ha caricato la TV La connessione è scaduta? Sharder, non me la trova Come mai? Pettiniamoci intanto Vediamo, vediamo, vediamo Monster Si può entrare... Oh, ok Perfetto, allora Fox è dentro Monster prova a entrare Dai, ci pettiniamo Entro, bravo Oh, ti sto vedendo Ti sto vedendo che sta entrando Cambiamo auto E mettiamo la mia No Se tieni l'assetto Mandacelo, please Assolutamente sì Assolutamente sì, amico mio Ma di che macchina? Allora Noi stiamo correndo Guarda, ti faccio vedere Monster Noi stiamo correndo Con delle GR3 GR3 da 770 Da 800 Fai da 800 A 840 pp Ok? Quindi Quella che tu hai Non lo so adesso Che versione hai Di GR3 Vedi, per dire Io quando corro con la Beetle Con la Beetle 7,96 E corro tranquillamente Con contro le Subaru Quindi Tanto dobbiamo correre Per divertirci Quindi non c'è problema Basta che viene dentro Con una GR3 Ci facciamo Ci facciamo Una corsettina così Dai Allora Fatemi riscaldare Un paio di giri Ragazzi Oh Bella Monster Ah Io devo mettere Il cambio Mamma mia Tutte le volte Mi dimentico Scusa Scusa Monster Non ero io Che guidavo Era il 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 cambio Automatico Vai Andiamo No Ma cosa è successo Raga Ma no Sharder Cos'è successo Caspita Ragazzi Morta la connessione Credo proprio Di sì Non so Vabbè Rifai Rifai la stanza Mitico È caduto Sharder Ma sei proprio caduto Dalla sedia Ah 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 Dai provo a farla io Provo a farla io Magari che c'è qualche problema Ancora Perché è team Ok Dai la faccio io La faccio io Dragon trail Ok Cinque giri Diciamo che sei Dai Allora Tempo Bello Asciutto Pomeriggio Santa pazienza Eh sì Eh sì Eh sì Eh ma non è di peso Da noi Raga Turbo Solo amici Mi sa rompere anche Stasera Sì le linee fanno schifia Dai Allora cercatela Cercatela ragazzi Sto facendo la stanza Me la fai in un secondo Quindi poi quando va a cercare gli altri È lì che succede un po' Il patatrack Perché la stanza vedete Che a me la fa cercare in un secondo Me la fa fare in un secondo Poi Poi è un casino Invece dopo Dai cercate la stanza ragazzi Che sono dentro Ci facciamo sta mega corsetta Che sono già quasi le 11 Dici entra 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 monster Grandissimo Ecco perché andava tutto Tutto male Prima monster Che è andata a sbattere da sola Ciao amici di Twitch Stiamo facendo una corsettina amichevole È tra amici Con voi ragazzi È con voi amici di Twitch Il grandissimo monster è entrato stasera Qui ha dato l'amicizia Quindi se volete giocare Mandatemi l'amicizia su Twitch Cioè è il follow Ciao amici di nazale Andiamo a vivere E benvenuti, benvenuti, io vi ricordo che domani sera amici miei sono in live alle 9 con il mitico Warzone, se tutto va bene faccio gli allenamenti con il mitico Morris e Michele, se invece la live domani in questo modo non si farà, gioco con il mitico Chris, Giovanni e magari Morris, poi dopo vediamo se deve allenarsi o che cosa. No, non riuscite a entrare raga, cos'è che vedo sta roba che è, se no la rifai tu Sharder, non so cosa dirti, Fox è dentro. Non ti fa entrare, prova a riavviare il gioco, mitico Sharder, perché sei crashato prima, non vorrei che devi riavviare proprio il gioco. Anche il mitico Monster È il problema nostro, prova a riavviare il gioco Prova, prova, caspita per leggerti sono andato a sbattere Prova Sharder, se no è brutta, sono già le 11 Ah, anche Monster esce, vedo che continua, eh che cavoli Fox, vuoi provare a farla tu la partita? Prova Sharder, non riesco a farne uno bene. Ah, dai, ma dai, ma dai. No amore, no, mio amore, non attacca. Porca miseria. Niente, loro si centrali, raga. bravo a farla Sharder ok l'hai creata dai Fox Fox andiamo da Sharder Fox vieni vieni amico ok dai vediamo se adesso la tiene Sharder così facciamo una mega allora Dragon 3 litorale questa? si hai la linea bassissima però eh lo vedete ragazzi le due tacchettine si infatti l'ultimo tentativo se non funziona andiamo vado a letto anche perché ragazzi aspetta che ore sono eh si sono già le 11 allora io sono dentro vieni Monster vieni subito eh si Sharder hai la linea un po' bassina perché di solito tu la riesci a fare bene eh tacca rossa addirittura vediamo se Fox sembra che è entrato ciao amici e amiche di Twitch mi scrivi sempre che devo poi leggere e vi vado fuori a sbattere non ho capito cosa gli hai detto si comunque te lo dico cazzarola che di solito riesco a leggere benissimo le cose che scrivono però quando sono troppo concentrato anche io faccio fatica no no è assurda è assurdo Kevin io non capivo niente poi veniva fuori un un pasticcio poi soprattutto se leggeva le cose scritte basta va bene ma legge le icone no e le legge veramente malissimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti dovremmo essere più o meno a posto ragazzi grazie a tutti ciao amici di Twitch amiche di Twitch grandissimi ma perché si frena tutto sto scemo stiamo facendo una corsettina online con gli amici di Twitch con voi amici di Twitch mi raccomando iscrivetevi al canale grandissimi se vi avanza l'abbonamento grazie 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 a tutti 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 stasera stasera amici miei mi sa che sono troppo stanco grazie a tutti 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 ciao amici ciao ciao wow grazie a tutti 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 tutti grazie a 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 tutti 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 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti